arriva il primo successo per benedetti il casalbordino e spugna franca villa e batte il villa 2015 per 1 a 0 con la rete di della penna 10 minuti dallo scadere venendo al match 4 231 per vitale con dincecco alessandro paravati e liguori dietro l'unica punta giuseppe paravati benedetti risponde con il tridente dei santis fanelli zinni il primo tempo non decolla mai al sesto mischia in area locale colpo di testa di zinni facile per falso al decimo liguori si districa in contropiede allarga sulla sinistra per giuseppe paravati che incrocia con il destro battetano ma viene ravvisata la posizione di offside ci vorrebbe davvero il bar per tracciare la linea giusta nella finale di tempo due occasioni per parte dincecco seminal panico sulla sinistra rientra sul destro buona la risposta dell'estremo ospite un minuto dopo cross di dei santis per la testa di fanelli tiro out con le immagini di simone luciani nella ripresa parte subito forte il casalbordino con falso che al secondo deve ribattere la punizione di fusaro 10 giri di lancette più tardi cross al centro liberale dei santis colpo di testa a cui falso dice di no al quarto d'ora si accendono i fratelli paravati prima occasione da calcio piazzato per alessandro che scheggia la traversa poi giuseppe va in gol ma viene ravvisata nuovamente una posizione irregolare del numero 9 al 26esimo fanelli si ritaglia una spazio in aria destro in girata che non trova la porta i giallorossi salgono di intensità e dal 78esimo passano cross dalla sinistra per della penna che al centro dell'area controlla e tira con il destro falso e battuto per lo 0 1 i biancorossi non riescono a reagire dopo sette minuti di recupero termina dunque così fanno festa i tifosi della casa al bordino mentre c'è ancora rammarico in casa villa per un'altra bella prestazione infruttuosa villa casa al bordino 0 1